Un pezzo di Rocca Bacerana ha abbandonato al suo destino. Il tiglio bicentenario, situato al centro del comune rocchese, rischia di morire. A denunciare la situazione è Giuseppe Fazio, consigliere d'opposizione del comune di Rocca Bacerana. Fazio precisa. Bisognerebbe chiamare una ditta specializzata per risolvere la questione. Ci sarebbero da fare degli interventi e ad esempio andrebbe smontato il muretto di contenimento per far respirare le radici, operazione che è stata fatta sei anni fa dalla precedente amministrazione e tanta la preoccupazione tra i cittadini per le condizioni del vecchio albero. Ma non solo, infatti la malattia che ha colpito il tiglio potrebbe causare delle improvvise cadute dei rami dovute al loro indebolimento, pericolose per i passanti. Il tiglio secolare fu piantato oltre 200 anni fa nel 1798 in memoria delle popolazioni della Valle Caudina che avevano aderito e partecipato ai moti rivoluzionari della Repubblica Partenopea.